È un istituto che fa la ricerca sulla produzione del latte in tutto il mondo e cerca di fare delle ricerche. Come prima cosa a lui gli piace moltissimo la vita e lo stile di vita italiano e anche il mangiare. E l'altra cosa che è apparso è che l'Italia e la Germania hanno gli stessi obiettivi nel mondo lattiero-caseario. Per la Germania il mondo lattiero-caseario è ancora molto frammentato e la domanda è riusciamo a farlo da soli o abbiamo bisogno di un'organizzazione esterna tipo danese o di altri paesi che ci spiegano come farlo. Lui spera per l'Italia che riesca a trovare le forze per andare avanti da sola e di trovare queste forze interne.